Ciao a tutti! Quando un uomo comincia ad annoiarsi di una donna? E diciamo che le motivazioni sono molto simili a quando una donna comincia ad annoiarsi di un uomo e sono legate soprattutto... purtroppo ci sono due tendenze che sono... che vanno sempre in contrapposizione come in tutte le cose esiste un verso e esiste un inverso cioè per ogni cosa esiste il suo inverso come esiste il giorno, esiste la notte, come esiste l'alto, esiste il basso quando esiste una cosa esiste anche il suo opposto e tra le tante cose che esistono, nelle relazioni di cui le persone hanno bisogno ce ne sono due che si chiamano trasgressione e istituzione Ovviamente una donna istituzionale, se questa istituzione è conclamata, perenne, costante annoia Una donna istituzionale è una donna tutta dedicata alla casa tutta dedicata, non so, ai figli tutta dedicata alle situazioni prevedibili, insomma o anche ad altre cose, ma prevedibili l'istituzione è tutto ciò che è prevedibile, che conforma il ruolo che ti aspetti, che non ci sono sorprese non ci sono sorprese, non ci sono emozioni e questo annoia D'altra parte c'è poi il contrario la donna trasgressiva quella che non sai mai se è disponibile che non sai mai se ti tradisce, se va con altri uomini che di fatto non si prende cura di te, tra virgolette, come persona è più egoista trasgredisce, insomma, trasgredisce il suo ruolo non è una mamma, una moglie istituzionale insomma, questa, da un certo punto di vista non annoierà mai diciamo così, darà forti emozioni Ornu dice, ma è meglio quale delle due attira di più? beh, in teoricamente nessuna delle due cioè perché entrambe le esigenze vanno soddisfatte quindi il vero la vera seduttrice come il vero seduttore è quello che sa incarnare entrambe le cose perché se una donna si presenta sempre come trasgressiva dopo un po', come dire certo, attira molto ma poi la parte logica per la parte logica la due più due fa sempre quattro dice, va bene, questa è trasgressiva però non stira, non cucina non fa la mazza comunque, poi alla fine come dire, te la vivrai come trasgressione ma ti cercherai quell'istituzionale che ti cucina, ti lava e ti stirano per fare un esempio mentre se cucini, lavi e stiri solo per fare un esempio di prima non fai vivere patos, trasgressione ti cercherai la trasgressiva quindi la vera abilità è quella di cercare di ricoprire entrambi i ruoli dice, ma sono ruoli inconciliabili in effetti un po' è vero l'abilità è proprio quella di cercare di far conciliare entrambe le cose quindi in alcuni momenti ti presenterai in un modo diciamo che manterrai sempre una trasgressione anche nel fare le cose istituzionali cioè farai le cose in modo originale ecco, in modo originale imprevedibile però vanno gestite entrambe le situazioni d'altra parte la vita è fatta così cioè dobbiamo dare come dire onore al verso ma anche onore all'inverso ad entrambe le cose altrimenti in un caso si con tutta istituzione diventi noiosa e viene subito giudicata noiosa nell'altro caso viene giudicata eccessivamente inaffidabile e quindi è imprevedibile e quindi c'è un'altra parte che bisogna gestire entrambe le cose per poter ottenere dei risultati positivi insomma da un punto di vista del coinvolgimento emotivo bene per questo video è tutto seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione ciao a tutti grazie a tutti